All'interno di Gammatom la persona qualificata è principalmente responsabile di certificare che il processo di raggiamento inerente ai principi AT farmaceutici e le specialità medicinali sia ad uso umano che ad uso veterinario siano in conformità con le procedure e le istruzioni operative in vigore in termini di qualità, di sicurezza e di efficacia. Gammatom è considerata un'officina farmaceutica in quanto la si può considerare come una sorta di estensione di un reparto di produzione di un'azienda farmaceutica adibita a svolgere attività di raggiamento mediante radiazioni gamma di cobalto 160 di principi AT farmaceutici e specialità medicinali ad uso umano e ad uso veterinario e come tale deve obbligatoriamente possedere l'autorizzazione all'esercizio assicurando alcuni requisiti previsti dal decreto legislativo numero 219 del 24 aprile 2006.